a tutti benvenuti e bentornati in questo video interattivo oggi come ogni settimana andremo a vedere come andrà la settimana fra il nostro lui e la nostra lei vi ricordo che il lui e la lei possono essere chiunque potete essere voi ma potrebbe essere un familiare un parente potrebbe essere un amico qualsiasi riferimento alla diciamo alla situazione che c'è fra questo uomo e questa donna che vi faccia ricordare o voi o qualcun altro sta a indicare che questa settimana la nostra coppia è quella la cioè la vostra coppia perché voi dovete identificare una coppia che non necessariamente dovete essere voi né tantomeno fra queste due persone c'è un legame sentimentale vi ricordo che giù nelle info troverete tutti i riferimenti sia il mio secondo canale dove vi ricordo che il servizio è gratuito perciò scrivetemi una mail soltanto via mail con il vostro nome e la data di nascita e io piano piano vi metterò in lista e giorno dopo giorno quando ho la possibilità di si intende dirò curiosità sul giorno di nascita e anche qualche particolarità sulla numerologia e con i numeri estratti dalla vostra data vi ricordo pure che per consulti privati per informazioni potete scrivermi sempre allo stesso indirizzo iniziamo subito vediamo chi è il nostro lui di questa settimana vediamo un po chi è il lui di questa settimana andiamo a vedere chi è il lui e chi è la nostra lei per il nostro lui abbiamo abbiamo qualcuno già di di malinconico allora qui abbiamo sicuramente una figura che una persona che è molto emozionata nel nell'incontrare la sua lei ed è una persona che è molto attratta dalla bellezza femminile infatti se poi ci fate caso qui abbiamo l'acqua che diciamo è portatrice di emozioni una persona che è molto riflessiva e poi abbiamo questa figura femminile è lui che si gira a guardarla potrebbe anche essere una una persona cioè che lui è interessato a una persona del suo passato perché lui è come se si voltasse indietro come se stesse guardando una persona che fa parte del suo passato comunque è attirato molto da questo tipo di figura e prova molte emozioni per questa figura femminile che devo dire è una figura femminile molto molto bella comunque lui è come se in questa settimana volge uno sguardo al suo passato oppure è attratto da questo tipo di donna che entrerà nella sua vita o potrebbe essere che torna nella sua vita andiamo a vedere la nostra lei la nostra lei invece qui la vediamo insieme a un'altra figura femminile la vediamo insieme a un'altra figura femminile e come potete vedere chiacchierano vedete come chiacchierano queste due queste due amiche conoscenti oppure parenti e chiacchierano su su questa figura maschile hanno qualcosa da dire su questa figura maschile che diciamo che è una persona abbastanza matura secondo me ma che all'interno ancora lo spirito e l'animo molto 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 giovane è una persona che all'esterno non si fa molto riconoscere cioè non si fa molto vedere in quanto non vuole subito esprimere quali sono gli interessi che ha verso verso questa figura femminile infatti abbiamo una caratteristica in questa carta che è appunto tutta l'ombra e poi semplicemente alle sue spalle c'è questa luce che lo illumina perciò come se questa donna sia sotto l'occhio osservatore di lui infatti vedete questa carta e questa carta è come se si diciamo rassomigliassero un pochino ecco vedete lui si gira indietro e come se è attratto da questa figura femminile e dall'altra parte lei sta confabulando parlando cercando di indagare su quello che è il nostro lui e lui diciamo è come se se ne fosse accorto e sta avvolgendo uno sguardo alla nostra lei lui il lei lo vede appunto come una persona matura con l'animo giovane potrebbe essere anche il contrario potrebbe essere un giovane con l'animo abbastanza matura con il personaggio abbastanza maturo adesso andiamo a vedere che tipo di rapporto c'è fra queste due persone che tipo di non dico sentimento ma che tipo di legame c'è fra queste persone fra queste due figure vediamo un po a livello sentimentale emozionale chiamatelo come volete allora e qui abbiamo inganno abbiamo fatti religiosi e abbiamo fiducia qua fiducia inganno la fanno da padroni allora fatti religiosi mi verrebbe da dire che queste due figure potrebbero avere avuto un passato in comune potrebbero essere stati marito e moglie potrebbero essere stati non so c'è un legame comunque da fra queste due persone che però che però è stato intaccato appunto dall inganno e poi giustamente dalla fiducia mancata però l'inganno è dal lato di lui e la fiducia è dal lato di lei diciamo che questo è un pochettino approssimativo perché essendo interattivo tutto si può cambiare con con qualsiasi cosa qui mi sa che c'è stato fra di loro un qualcosa che è finito appunto per il la mancanza di fiducia dovuta a un inganno un inganno che non è prettamente diciamo riferito a un tradimento con un'altra persona questo poi lo andremo a vedere con con gli oracoli però mi sa che qui appunto c'è stata una perdita di fiducia dalla parte di uno dei due che che purtroppo ha intaccato questa relazione questa forma di intesa che c'era fra queste due persone adesso andiamo a vedere con gli oracoli se ci vanno a chiarire un po la situazione andiamo a prendere prima tre oracoli per lui e tre per lei e poi andremo a vedere ancora qualche altra cosa andiamo a vedere vediamo un po vediamo cos'è uscito fuori cambiamento e sofferenza perciò qui diciamo che lui mi porta una sofferenza e mi porta anche un incontro un incontro forse queste due persone si rivedono dopo un po dopo si rivedono dopo un cambiamento che c'è stato nella loro nella loro situazione appunto quella che vi dicevo prima inganno e fiducia qui c'è una sofferenza dovuta a un cambiamento ma c'è un'ulteriore sofferenza quando queste due figure si vanno ad incontrare mi sa che quello che ha sofferto di più è il nostro lui mi sa che quello che ha sofferto di più è il nostro lui perché lui mi porta una sorta di sofferenza quando la vede ecco infatti dicevo appunto all'inizio che lui è come se si girasse indietro e nel suo passato vede qualcosa che ancora lo emoziona che ancora diciamo lo fa soffrire e qui potrebbe potrebbe anche significare che l'inganno è stato perpetrato ai danni di lui perché qua nelle nelle carte di lei vedo libertà sogni e impegno cioè che lei si è proprio impegnata per riavere la sua libertà cioè lei non ha una vera e propria sofferenza perché lei ha ritrovato la fiducia penso in se stessa e qua mi parla appunto di questo incontro vedete vedete la libertà che mi parla appunto di rincontrare gli amici uscire con gli amici ecco era un sogno che lei aveva quello di riavere la la sua libertà vediamo un po cosa succederà nella loro settimana vediamo un po approssimativamente prima di prendere i tarocchi vediamo cosa accadrà nella loro settimana di nuovo la carta della fiducia felicità coraggio collaborazione mi sa che questi due si debbano incontrano qui c'è stato qualcosa fra di loro c'è stato qualcosa perché guardate qui di nuovo inganno e fiducia qui c'è stato queste due persone erano legate da qualcosa che è andata sgretolandosi appunto per la mancanza di fiducia qui adesso il destino perché la vita è imprevedibile ripoli riporta a rincontrarsi per una collaborazione e loro partono felici di questa collaborazione però qui tutte e due devono avere un bel po di coraggio a ritornare a collaborare insieme perché appunto qua ci sono delle ombre le ombre sono dettate appunto dal loro passato sono dettate dal loro passato perché fra questi due è successo qualcosa che diciamo li ha li ha portati a non a non trovarsi più bene fra fra di loro vediamo un po andiamo a vedere il nostro lui cosa va a dire sembro indifferente ma non è così lui ci soffre ancora infatti come dicevano le carte poco fa la tua amicizia è preziosa diciamo che lui la vede come un'amica e poi voglio pensare a me stesso diciamo che lui non ha una intenzione di tornare al livello sentimentale ma qua si parla più di amicizia c'è stato appunto fra di loro un qualcosa che l'ha intaccata poi per lei forse non ti piaccio abbastanza vediamo un po siamo destinati a stare insieme e non aspetterò più allora presumo che la nostra lei si aspettasse qualcosa di più da lui dal rapporto che avevano prima e ora il fatto che si vanno a rivedere e il fatto che loro debbano collaborare a lei fa rinascere di nuovo qualcosa però qua mi parla che lei appunto ama la sua libertà perciò lei voleva diciamo l'utile il dilettevole cioè voleva impegnarsi però puoi fare quello che vuole e diciamo lo colpevolizza con forse non ti piaccio abbastanza siamo destinati a stare insieme però non ti aspetterò più lei è un pochettino altalenante lui è un pochettino più definito perché sembro indifferente non lo sono però la tua amicizia è preziosa qua lui parla a livello di amicizia lei parla invece di siamo destinati a stare insieme forse lei è più predisposta a questa collaborazione rispetto rispetto a lui o forse lui ha capito male ecco forse lui ha capito che da parte sua c'era qualcosa in più e ma questo non è vero perché io da parte di lei non vedo questa questa sorta di legame più profondo verso verso di lui adesso andiamo a vedere coi tarocchi vediamo un po' com'è la stesa fra di loro che cosa che cosa mi vanno a dire questa settimana fa il nostro lui e la nostra lei andiamo a vedere cosa abbiamo e vedete qualcosa c'è un bel conflitto qua c'è un bel conflitto perché uno era pronto alla realizzazione e l'altro no qua mi parla di allora qua mi parla di un qualcosa riesce anche la carta dell'imperatrice allora qua mi parla di un qualcosa che a queste due figure le ha portate a essere in conflitto qua sono partiti molto molto a bomba ecco nel fatto della realizzazione della felicità qua c'era uno dei due che aveva fatto il presumo lei si era fatta diciamo delle idee che nei confronti di lui ecco delle idee che poi non si sono potute realizzare perché perché lui non aveva le sue stesse intenzioni cioè tutte e due viaggiavano bene a livello economico a livello lavorativo perché qua mi parla proprio di successo lavorativo apprendimento abilità qualcosa che poteva continuare che poteva essere una cosa molto proficua ma arrivato a un certo punto c'è stato uno stop uno dei due che cosa ha fatto ha preso tutto ciò che aveva e si è allontanato qui è perché lei diciamo ci aveva messo più interesse a livello emotivo rispetto a lui e perciò qui c'è stata una situazione di conflitto di ostacoli ostacoli che poi si sono riversati anche sul sul successo che loro due potevano avere a livello guardate qua c'era questo successo che loro potevano avere a livello economico lavorativo e perciò questo successo è stato bloccato dal conflitto che è venuto fuori quando lei ha capito che lui non era interessato come persona come diciamo sentimenti ecco infatti qua lei mi esce come una regina di coppe mi esce proprio a livello sensibile amorevole e lei magari sperava che qualcosa potesse continuare ecco potesse avanzare potesse essere qualcosa di più del semplice rapporto lavorativo lei sognava una una soddisfazione una felicità diversa però qua mi parla anche di azione creatività energia qui c'è qualcosa che fra questi due questa settimana diciamo tende a a ricominciare andiamo a prendere due diciamo tre delle miele normanda vediamo prima di concludere con quello che si andranno a dire in conclusione questa settimana vediamo un po cosa mi dicono allora è infatti qui c'è qualcosa vedete il lavoro il messaggio e la vendetta qua c'è qualcosa fra i due che non è stata ben chiarita cioè non è stata ben chiarita già dall'inizio e purtroppo ha rovinato tutto quello che ci poi perché c'era un bel un bel inquadramento a livello lavorativo per queste due persone però qui mi parla di vendetta e i topi giustamente che hanno derubato lei di un qualcosa che e che le aveva fantasticato che le aveva idealizzato e qui mi parla appunto di una sorta di ingenuità da parte di lei che invece non è non è andata diciamo come come lei sperava perché qua mi parla di solitudine e di qualcosa che ancora lei si porta dentro è ancora lei se lo porta dentro infatti le guardate che cosa sognava lei sognava questo le sognava un'unione che poteva andare al di là se il suo desiderio era appunto quello di creare con lui qualcosa di di più del semplice rapporto lavorativo ma purtroppo non c'è stato perché come diceva la prima carta la tua amicizia è preziosa andiamo a concludere con qualche altra frase che i nostri due partecipanti di questa settimana si vogliono ancora scambiare vediamo un po che cosa ci vengono a dire allora andiamo con lui ti sogno sempre lui va bene insomma so di averti delusa a livello sempre amichevole perché magari lui si fa una colpa perché non è stato chiaro e sono innamorato ma potrebbe anche essere sapete che lui dopo tante peripezie dopo aver detto che era solo un'amicizia magari in lui questa in questo periodo in questo riavvicinamento potrebbe nascere qualcosa di diverso magari si è reso conto che per lei non provava semplicemente amicizia ho fatto di tutto per noi lei gli rimprovera questo sento che provi lo stesso per me ma comunque sono tutte e due sulla stessa lunghezza d'onde in questo momento è sei il mio primo pensiero penso che fra tutte e due al di là delle degli scherzi che hanno avuto in passato perché questa è una coppia sicuramente che si conosce non da ora ma si conosce già da da un po di tempo penso che invece questa sorta di collaborazione questa azione questa rincontro perché qua mi parla appunto di un incontro fra i due dopo non so quanto tempo dopo questo incontro potrebbe nascere qualcosa che lei sperava che potesse nascere prima e lui magari si rende conto che per lei non prova solo amicizia ma prova qualcosa di più bene questa è la settimana dei nostri due protagonisti del nostro lui e della nostra lei speriamo che dopo tanto tempo le cose possano funzionare fra queste due fra queste due persone io vi ricordo sempre che se vi siete ritrovati in questa variante volete sapere qualche curiosità sul vostro giorno di nascita o qualche curiosità legata alla numerologia in base alla vostra alla vostra data o al vostro nome il servizio è gratuito io vi risponderò sempre tramite video mi raccomando di scrivermi una mail non tramite commento ma semplicemente tramite mail io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video